buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al nostro oracolo angelico giornaliero giriamo le nostre cartine e iniziamo subito con un cavaliere di denari un 5 di bastoni e un 4 di spade inoltre abbiamo anche gli oracolini che parlano di soldi in arrivo e di aggiustare e riparare qualcosa come sempre invito i miei studenti a mettere in pausa dare il loro commento a scrivere la loro interpretazione nei commenti e noi cominciamo con questo cavaliere di denari sto usando tra l'altro i tarocchi delle sirene con questo cavaliere di denari molto carino questo cavaliere di denari in effetti molto molto provocante con il sul suo drago o sul suo animaletto acquatico qualcosa è in arrivo e tra l'altro è in arrivo qualcosa anche di concreto qualcosa di reale cioè se ci sono delle proposte in arrivo da parte di qualcuno o siamo noi che stiamo andando verso qualcuno offrire qualcosa sicuramente si tratta di cose concrete non stiamo non stiamo giocando non stiamo non stiamo perdendo tempo e non vogliamo nemmeno far perdere tempo a nessuno potrebbe trattarsi ragazzi di questioni professionali e quindi potrebbe trattarsi di proposte lavorative progetti cose che riguardano l'elemento denaro e quindi ecco che ci sono soldi in arrivo potrebbe trattarsi di qualcuno che viene proprio fisicamente o comunque di qualcuno che ci dà ci fa un bonifico ci dà un prestito qualcuno che ci paga per un lavoro potrebbe essere una cosa puramente materiale fisica oppure potrebbe essere un qualcosa che noi vedremo sul lungo termine ecco quindi una proposta di qualcosa che arriverà più avanti c'è anche però sempre un'altra opzione e cioè questo cavaliere di denari noi possiamo vederlo come qualcuno che porta denaro in senso energetico in senso di stabilità e concretezza potrebbe quindi essere un uomo una donna che si avvicina a noi volendo far sul serio si potrebbe essere qualcuno che si avvicina volendo far sul serio non sarà per tantissimi ma per qualcuno di noi potrebbe anche potrebbe anche manifestarsi in questo modo questa energia o magari siamo noi che lo facciamo e che andiamo verso qualcuno ad ogni modo più che altro si tratterà comunque di cose lavorative o di cose che riguardano l'elemento denaro se però questa proposta non viene fatta nel modo giusto per quanto possa magari avere un senso e per quanto possa essere interessante ottiene delle resistenze perché con questo 5 di bastoni noi vediamo una sirena che cerca di difendersi tra virgolette da altre quattro sirene magari stanno giocando magari stanno semplicemente scherzando e in effetti il 5 di bastoni in tanti mazzi rappresenta il gioco però è anche vero che è un gioco un po' aggressivo è un gioco un po' fatto con i bastoni e i bastoni se vengono usati male possono far male quindi bisogna stare sempre attenti è un po' una carta borderline al il 5 di bastoni è un borderline è al limite fra lo scherzo e il prendersi a cazzotti in questo caso quello che noi possiamo pensare è che la reazione a questa proposta non è esattamente aperta non è esattamente ecco non ci accolgono a braccia aperte o se qualcuno che viene verso di noi noi non l'accogliamo esattamente a braccia aperte perché sì magari tu puoi anche propormi qualcosa di bello puoi anche propormi qualcosa di concreto ma se tu fino ad ora mi hai dimostrato di non essere in grado di fare cose concrete e di portarle a termine io non ci casco è ovvio che metto delle resistenze non mi fido non sono scema lo stesso vale sul posto di lavoro cioè se un amico viene mi fa una proposta che per me non ha senso e mi dice oh mbare guarda che se facciamo sta roba diventiamo miliardari ecco io analizzo la cosa se penso che non possa funzionare per per vari motivi è ovvio che incontro che incontrerà delle resistenze quindi io credo proprio che l'energia di oggi sarà un po' questa in cui qualcosa viene o vuole venire verso di noi o noi vogliamo andare verso qualcuno ma non stiamo andando nel modo giusto non funziona c'è qualcosina che non sta proprio andando come dovrebbe allora che cosa si fa in questi casi qui c'è la carta della giusta e ripara e subito dopo abbiamo un quattro di spade quindi una cosa è certa il nostro tentativo di andare verso qualcosa o di fare questo qualcosa non va a termine quindi quattro di spade significa o che noi ci rifiutiamo è punto oppure che l'altra persona o le persone si rifiutano è punto col quattro di spade tra l'altro noi proprio ci prendiamo anche una pausa ci prendiamo una pausa perché dobbiamo rigenerarci dalla fatica che abbiamo fatto fino ad ora dobbiamo prenderci tempo per noi non dobbiamo stressarci infatti una delle possibilità è proprio questa cioè se noi andiamo supponiamo che noi andiamo da una persona dicendogli voglio stare con te e voglio costruire la mia vita con te questo è denari nell'ambito delle relazioni questo è denari è un modo per usare per vedere le carte di denari se questa persona ci dice no noi non possiamo altro che far altro che tornarsene a casa aggiustare noi stessi riparare le nostre emozioni il nostro cuore cucirlo ricucirlo e prenderci il tempo che ci serve per ricucirlo se qualcuno viene da noi e ci dice e ci dice guarda senti stavo pensando che tu sei troppo importante per me e quindi tu sei la donna della mia vita e quindi io voglio tutto da te voglio costruire con te ma se finora mi hai stampato corna dalla mattina alla sera ma chi boh chi boh proprio si dice a enna si dice chi boh e non sto dicendo che sono di enna ma sto dicendo che conosco il dialetto di enna quindi ma chi boh anzi ma chi voi ve lo dico proprio in chiazzisu ma chi voi dialetto di piazza armerina ora ora io credo che se qualcuno viene da noi oggi non troverà proprio terreno fertile ma dovete stare un po' attenti a non farvi turbare da questa cosa non fatevi turbare non ci rimanete male e non lasciate che le emozioni in questo contesto non lasciate che le emozioni in questo contesto vi infastidiscano o vi facciano ricadere in un nella tristezza o nel fastidio non ce n'è motivo quello che voi dovete fare è proprio sfruttare questo quattro di spade questo tempo che avete per voi per aggiustare e riparare voi stessi perché dovete prendervi cura di noi di voi stessi e questo vale sia che siete voi a rimbalzare sia che qualcuno che rimbalza con voi sia che siate voi a non ottenere risultati andando non so dove sia che qualcuno viene da voi e non ottiene risultati non importa se le vostre emozioni se le vostre emozioni vi metteranno comunque in condizione di prendervi tempo per voi stessi fatelo e se si tratta di soldi in arrivo se si tratta di un progetto e di soldi in arrivo io credo che alcuni di voi avranno dei progetti interessanti l'unico problema è che non possono partire subito hanno prima bisogno di essere aggiustati in alcuni dettagli quindi questi soldi in arrivo in realtà potrebbero ancora arrivare cioè non diciamo no al denaro o qualcuno dice no al denaro a noi si tratta semplicemente di si tratta semplicemente di aggiustare quello che va aggiustato prendersi il tempo utile per farlo e dopo eventualmente andare avanti intanto io mescolo le nostre cartine oracolari e vi ricordo che se volete una sessione privata il modo migliore per averla è scrivere un email la mia assistente vi seguirà passo passo in alternativa potete andare sul sito e fare da soli e se invece volete diventare studenti o volete anche semplicemente informazioni sui videocorsi a disposizione potete mandare un messaggio whatsapp perché la carta non esce perché vuole essere presa con la forza ok è la carta del mare quale carta potevo uscire in un contesto di tarocchi con le sirene se non la carta del mare è ovvio che le sirene stanno a mare perché se le sirene stanno fuori dall'acqua la coda diventa gambe lo sappiamo tutti lo sappiamo sono pure i bambini che dobbiamo stare a mare se siamo sirene e allora bando alle ciance questa carta al mare l'acqua cos'è l'acqua l'acqua in esoterismo rappresenta le emozioni anche se qualcuno sostiene versioni diverse perché anche nel mondo della tarologia e nel mondo dell'esoterismo esistono versioni diverse esistono diverse scuole di pensiero io però personalmente ritengo che l'acqua sia il illegale rappresentante delle emozioni e non lo penso solo perché ho scelto di interpretare in questo modo ma lo penso perché quando io personalmente ho avuto a che fare con l'acqua con grandi quantità di acqua è stato il periodo più difficile della mia vita dal punto di vista emotivo io stavo affogando nelle mie emozioni e infatti in quel periodo facevo il corso di subacquea quindi ero tutti i giorni più volte al giorno sott'acqua con le bombole quindi ecco per me l'associazione è palese l'ho vista in pratica e io ragazzi quando vi insegno qualcosa soprattutto nei videocorsi raramente vi insegno cose che non ho provato su di me raramente parlo tanto per parlare o per sentito dire lo faccio solo quando si tratta appunto di conoscenze già ben dimostrate da altre persone e allora al mare stiamo lavorando con le emozioni certo magari siamo al mare porca miseria che bello un po di mare magari qualcuno di noi è al mare e si sta rilassando e si sta divertendo ma al di là di questo anche guardando la carta noi vediamo come questa donna su una barchetta che poi è una fatina perché alle ali questa donna su una barchetta sta navigando verso una determinata direzione con l'universo che la osserva ma si vede questo volto un po inquietante qua lo vedete qua c'è un volto cos'è se non il grande fratello che vi guarda vabbè è l'universo che vi guida che vi osserva che vi protegge se preferite potete dire sono gli angeli che mi proteggono i miei di guida le entità superiori entità spirituali mentre noi navighiamo senza remi senza controllo nel mare delle nostre emozioni quindi sarà tutto un gioco di emozioni questo ci invita a aggiustare le nostre emozioni ripararle prenderci cura di noi stessi imparare a volerci bene imparare ad ascoltare le emozioni e non ad assecondarle ma a rispettarle e con in con questo io spero di esservi stata utile anche per oggi e di darvi una mano a vivere meglio questa giornata e noi per il resto ci vediamo domani Ciao Ciao